amici marco's box benvenuti o bentornati in questo nuovo video questo video è dedicato agli strumenti di intelligenza artificiale atti a tradurre i nostri video sto parlando di tutti quanti quei servizi che consentono di tradurre il nostro parlato in altre lingue questi giorni ne ho provati diversi strumenti di intelligenza artificiale che riescono a fare cose del genere e l'intelligenza artificiale che mi ha più stupito e rask ai sky è una intelligenza artificiale mediante la quale possibile tradurre in diverse lingue il nostro parlato è possibile anche fare diciamo la sincronizzazione del labiale però quello non ho potuto approvare perché purtroppo il piano base non consente di fare di fare questo tipo di lavoro ho però provato il servizio di traduzione in diverse lingue di un breve video video vecchio che avevo realizzato per per youtube qualche tempo fa e fra poco vi mostrano tutta una serie di carregate di traduzioni in altre lingue come potete vedere dal video poi che segue dai video che seguono anzi sono tutti quanti fatti in una maniera impeccabile mi hanno fatto anche alcuni complimenti per tradizione per in particolar modo per la lingua inglese sono strumenti che sembrano quasi stregoneria ma lasciamo la parola a questo servizio di trascrizione dei video e ci vediamo dopo anzi traduzione dei video questo video è un video che non dedicato a noi genu plus linux operativi non è un video dedicato a noi genu plus linux invece richard stermann e i suoi followers go and beat me up with a big club ma è un video dedicato a noi genu plus linux operativi ma è un video dedicato a microsoft windows on the channel to tell you about the utility that many of you don't know about that i find really useful and that shall we say allows you to have some of the functionality of linux within windows you will understand in a moment why i am talking this way but let's see what utility we are talking about and it is because i find it really interesting the utility in question is the windows package manager on microsoft windows systems gida del du miller and amie de marcosbox bienvenue ou bon retour pour cette nouvelle video cette fois ci il s'agit d'une video qui n'est pas dédiée a notre cher et bien aimé système d'exploitation gnu plus linux je dis gnu plus linux autrement richard stermann et ses disciples vont me frapper avec un grand gourdin mais c'est une vidéo dédiée à notre amie de cérémonie microsoft windows pourquoi ai-je décidé de faire une vidéo dédiée à microsoft windows sur la chaîne pour vous parler d'un utilitaire que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas que je trouve très utile et qui disons vous permet d'avoir une partie des fonctionnalités de linux sous windows vous comprendrez dans un instant pourquoi je parle ainsi mais voyons de quel utilitaire nous parlons et pourquoi je le trouve vraiment intéressant l'utilitaire en question est le gestionnaire de paquet de windows sur les systèmes microsoft windows, gda del du miller et frère de marcus box willkommen oder willkommen zurück zu diesem neuen video diesmal ist es ein video das nicht unserem lieben und geliebten betriebssystem gnu plus linux gewidmet ist ich sage gnu plus linux sonst richard stermann und seine gefolgsleute gehen mich mit einer großen keule verprügeln aber es ist ein video gewidmet unserem feierlichen freund microsoft windows warum habe ich mich entschieden ein video über microsoft windows zu machen um euch über ein dienstprogramm zu informieren das viele von euch nicht kennen das ich aber sehr nützlich finde und das sagen wir mal einige der funktionen von linux unter windows zu nutzen unter windows zu nutzen sie werden gleich verstehen warum ich auf diese weise spreche aber lassen sie uns erst einmal sehen über welches dienstprogramm wir sprechen und warum ich es wirklich interessant finde bei dem fraglichen dienstprogramm handelt es sich um den windows packet manager auf microsoft windows systemen werden gda del du miller und e rieccoci qui avete visto non mi sbagliavano quando dicevo che sembra praticamente quasi stregoneria perché perché riescono a prendere la nostra voce a tradurla in diverse diverse lingue ed è un servizio stupendo secondo me è ottimo per tutti quanti i content creator che desiderano espandere il proprio pubblico anche all'estero ma anche per tutti quanti quegli utenti che fanno business hanno bisogno di tradurre i loro prodotti i costi sono elevati proprio perché si traduce si tratta di insomma di di strumenti per l'utenza business fatemi sapere voi che cosa ne pensate lasciate un commento qui in basso e ci rivediamo a un prossimo video ciao ciao